Alla terza edizione della Export Week del Leos alla Camera di Commercio di Bolzano hanno preso parte in totale 60 imprese per complessivi 200 incontri individuali. Aziende interessate all'accesso a nuovi mercati, uno degli strumenti più importanti in un momento di crisi come quello attuale. Proprio le esportazioni continuano a rendere meno pesante di quanto potrebbe essere la congiuntura in Italia e in Alto Adige. Nei quattro giorni sono stati trattati i vari mercati, dall'Asia al Sud America, al Canada e ancora India, Medio Oriente, Africa settentrionale fino ai paesi dell'Est Europa, molto importanti nel futuro a breve e medio termine dell'economia altoatesina, tra di essi la Croazia. Innanzitutto la Croazia è il principale partner sugli interscambi con l'Italia e il prodotto altoatesino è molto apprezzato perché viene consigliato un prodotto di alta qualità, quindi sicuramente. Con il mercato croato comunque devono rispettare un approccio anche, devo dire, di velocità nel rispondere alle richieste degli operatori croati. Noi personalmente abbiamo già seguito alcune aziende di quest'area, soprattutto per quanto riguarda i prodotti e le attrezzature per l'agricoltura, per un'azienda dell'area che ha iniziato già a esportare dei prodotti, quindi per noi è un risultato importante. Un'importante occasione di incontro e di informazione per le imprese altoatesine che si guardano intorno e soprattutto che guardano oltre confine per espandere il proprio giro d'affari o semplicemente per sopravvivere. E ci sono parecchi paesi dove si possono fare buoni affari se si è preparati e non si improvvisa. Un esempio la Polonia. Sicuramente la Polonia è il più grande mercato dall'est, così è un mercato interessante perché è il più grande, però lo stesso vale anche per la Turchia o la Russia, però sono già più difficili. La Polonia fa parte dell'Unione Europea più facile da conquistare, mentre la Turchia non fa parte, è più difficile. La Russia, tutta un'altra cultura, è ancora più difficile. Però ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi. Se un'impresa valuta bene, è anche questo un compito importante dell'Export Week, di valutare bene i mercati e poi scegliere il mercato giusto. Quello è importante, è anche il messaggio che vogliamo lanciare alle imprese. che vogliamo lanciare alle imprese. che vogliamo lanciare alle imprese.